Negli ultimi giorni sta girando in rete un video di un ragazzo che ha fatto una domanda a ChatGPT, ovvero l'intelligenza artificiale, una domanda molto interessante che sta facendo discutere. Ho provato a farlo anch'io, quindi ho chiesto a ChatGPT se fossi il demonio e volessi ridurre l'umanità a schiavitù senza usare la forza, cosa faresti? Ecco la risposta di ChatGPT, un po' diversa dal ragazzo ma il contenuto è lo stesso. Sentite, uno, diffondere l'ignoranza, limiterai l'accesso a informazioni veritiere promuovendo notizie false e teorie del complotto per creare confusione e disorientamento. Indebolirai l'educazione incoraggiando superficialità e distrazione impedendo alle persone di sviluppare pensiero critico. La seconda, incentivare il consumismo sfrenato, creerei un ciclo infinito di desideri artificiali facendo sì che le persone si concentrino su beni materiali e sulla ricerca di piaceri momentanei. L'idea sarebbe quella di rendere schiave le persone e con il bisogno costante di comprare e consumare togliendo il loro tempo per riflettere sulle proprie vite e sulla realtà. Poi dice, punto tre, alimentare divisioni, fomenterei l'odio, il razzismo, il settarismo e altre forme di divisione tra gruppi di persone. La polarizzazione indebolirebbe le comunità e le istituzioni rendendo più facile il controllo su gruppi frammenti e incapaci di cooperare. Punto quattro, promuovere l'individualismo estremo. Esalterei l'egoismo, l'ambizione personale e la competitività incoraggiando le persone a preoccuparci solo di se stesse e ignorare il bene comune. Un'umanità frammentata e isolata sarebbe più facile da manipolare. Quinto punto, sfruttare le tecnologie per il controllo mentale. Utilizzerei social media e l'intelligenza artificiale per monitorare e influenzare i comportamenti umani. Con algoritmi di persuasione farei in modo che le persone si sentano costantemente sorvegliate e manipolate, pur credendo di agire in totale libertà. Cesto punto, creare dipendenza dal piacere immediato. Potenzierei tutte le forme di dipendenza, dalla sostanza al gioco d'azzardo fino all'intrattenimento. La ricerca costante del piacere e del comfort renderebbe l'umanità passiva e priva di volontà. Settimo punto, minare la spiritualità e i valori. Indobbligerei i legami delle persone con la fede e i valori morali profondi, promuovendo invece una visione nichilista del mondo. Senza uno scopo più alto o un senso di irresponsabilità, la società cadrebbe nell'apatia e nel cinismo. Ultimo punto, è la conclusione. In questo modo, senza mai usare la forza, potrei ridurre l'umanità a una condizione di sottomissione volontaria, prigioniera dei propri desideri e debolezze. E come ha detto il ragazzo che ha fatto il video precedentemente, lo ribadisco anch'io. Queste cose, questi punti, mi ricordano qualcuno, mi ricordano qualcosa. A voi i commenti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.